Buonasera, buonasera, sono Mazzarri, sono il mister Mazzarri, ma partita lì, il Napoli ha fatto la sua partita, non posso dire nulla ai ragazzi, il Napoli è stato eliminato e io sono contento, sono contento perché ho anche applaudito i ragazzi, perché i ragazzi hanno dato il massimo di quello che potevano dare, quindi la squadra ha giocato bene, nel secondo tempo si è mossa bene, è chiaro che abbiamo giocato contro l'Inter, che non è una squadra semplice e tra l'altro abbiamo giocato contro l'arbitro, che non era affatto una cosa semplice, perché io non voglio parlare di arbitri, perché non è giusto parlare di arbitri, però il gol di Cavani era regolare, l'hanno visto tutti, però io non voglio parlare di arbitri, perché la partita è stata così, è stata regolare, l'Inter, non so Leonardo che partita ha visto, si è detto che era equilibrata la partita, perché poi io non voglio parlare di arbitri, però c'era un gol, quello l'ho detto, poi c'era un rigore, un rigore nettissimo per il Napoli che non ci è stato dato, ma io non voglio stare qui a parlare di arbitri, perché sarebbe la solita cosa che diceva, vabbè allora Mazzarri, allora Napoli ha perso per colpa degli arbitri, Napoli non è che ha perso per colpa degli arbitri, Napoli ha perso per colpa dell'arbitro, un arbitro che si chiama Valeri, perché poi a un certo punto c'è stato quel fallo da ultimo uomo che meritava l'espulsione, perché è stato preso in sandwich, c'erano due, quindi non era un fallo da ultimo uomo, ma era un fallo da ultimo due uomini, e quindi era anche doppia munizione, ma io non voglio parlare, non voglio stare qua a parlare degli arbitri, perché altrimenti sarebbe poco carino, non voglio dire che l'Inter è stata aiutata, perché sembrerebbe che poi siamo qui Mazzarri a parlare che l'Inter viene aiutata, no, soltanto che in tribuna c'era il ministro della difesa la russa e che è tifoso dell'Inter, ora se il ministro della difesa è tifoso dell'Inter è chiaro che la difesa dell'Inter non prende gol, ma non voglio stare qua a parlare degli arbitri, perché altrimenti sembrerebbe che io mi voglio appellare, però noi abbiamo giocato la nostra partita, però non è che voglio dire che l'Inter ha rubato qualcosa, non voglio dire nulla, soltanto che però mi sembra strano che si chiama il trofeo team e poi il vicepresidente dell'Inter è Tronchetti Provera che è della Telecom, ma non è che voglio stare qui, però che la Telecom è la team e quindi il trofeo team è anche normale che lo vince sempre l'Inter e anche il campionato che è team, ma non è che voglio stare qui a parlare degli arbitri perché adesso noi abbiamo giocato, io sono contento perché il capello non si è l'acca Mazzarri, l'acca Mazzarri e sai cosa ti metti in testa?